salve amici bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale i video di oggi mostrano delle apparizioni demoniache davvero impressionanti prima di iniziare come al solito ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video detto questo cominciamo nel primo filmato un'attività poltergeist terrorizza un uomo nella sua casa privata il filmato mostra questa porta che viene aperta da un'entità invisibile allo stesso tempo si sentono dei rumori di passi grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Un esploratore urbano entra in un ospedale abbandonato e comincia la sua perlustrazione andando più avanti in un corridoio. Nota questo cavalluccio a dondolo che incomincia a muoversi da solo. Is that your horse? Do you like playing with the horse? Is that your horse? Do you like playing with the horse? I feel like this is like a child spirit in this room and it oddly got actually cold. Una telecamera di sicurezza installata in un hotel in Messico riprende quello che sembra essere un fantasma, vagare per la strada. Alcuni cani randaggi del posto notano quella strana figura. Dalle immagini sembra che gli animali non provino nessuna paura per quell'entità. Infatti rimangono lì fermi ad osservare quello spirito mentre si allontana. Questi ragazzi entrano in questa casa abbandonata non sapendo cosa li aspetta. Una volta entrati incominciano a dispezionare la casa finché ad un certo punto entrano in una stanza e notano che in fondo alla stanza c'è una strana sagoma bianca che si alza e li fissa. A quel punto i ragazzi terrorizzati fuggono via da quel posto. Il filmato è davvero impressionante. Questo è ciò che è stato ripreso. Questo è un passo, ciò che si un'amtwiceenda. Gi orderse un ciao! E' questa è un po' di spettazione! Hei, 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 hei... Calma te, calma te... Hei, che è in modo da, e... Udè è stato un po' cuore, e' killed dire. E' sempre certo che... ... invece è stato asustato a me questa verga... Ehi, Ehi, stare la maque, ehi, ehi! Corre, corre! Rappido, rapido, rapido! Vai dipendendo, vai dipendendo... l'ultimo filmato mostra quella che sembra essere una ragazza seduta ad un angolo di un muro la ragazza sembra che abbia qualcosa di strano in faccia la sua bocca è più larga del normale e mostra dei denti e una lingua che rispetto al suo viso sono davvero sproporzionati alcuni passanti notandola tentano di comunicarci ragazza in tutta risposta non comunica verbalmente ma mostrando la lingua e aprendo la sua bocca il video mette davvero i brividi questo è ciò che è stato ripreso siamo arrivati al termine ragazzi il video finisce qui fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questi filmati io vi saluto e come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao ciao